Vinitaly 2018, appassionati di bollicine ma anche di ciclismo, non potevamo che capitare in Franciacorta con il presidente del consorzio Vittorio Moretti. Buongiorno. Buongiorno. Franciacorta è sempre una grande scommessa. Noi stiamo facendo tante cose belle, tra cui il Giro Italia. Il Giro Italia che passa in Franciacorta. Il Giro Italia è nel nostro DNA, perché lo sport più antico e lo sport più vero che ha avuto soprattutto la mia generazione è stato il ciclismo. Quindi ci tenevamo in particolar modo e poi crediamo che meriti la Franciacorta di essere vista anche sotto questo profilo, perché è un prodotto sportivo il nostro, è un prodotto piacevole, è un prodotto che dà gioia, come del resto andare in bicicletta. Sarà un 23 maggio spumeggiante ma la Franciacorta si presta appunto ad essere scoperta anche in bici direi. Certo, perché al di là della sua conformazione collinare, dove c'è la possibilità di fare anche qualche campione, qualche punto particolare di arrivo, è una cosa molto bella, è un ambiente molto bello dove si vedono cose straordinarie, soprattutto i vigneti che hanno ridisegnato quest'area e che danno qualità, perché è un giardino a cielo aperto. Appuntamento quindi Franciacorta, Giro d'Italia, 23 maggio per brindare. Senz'altro, noi ci saremo tutti e brinderemo alla grande.